Nell'anno di Procida Capitale, nei tanti appuntamenti del cartellone di eventi di Procida Capitale della Cultura, non poteva mancare una rassegna dedicata al mondo dell'audiovisivo, non solo cinema. Sì, infatti la rassegna è un po' sul mondo dell'audiovisivo in genere, del cinema, e soprattutto con l'incontro tra filosofia e cinema e audiovisivo, quello che è nato un po' dalle ceneri del vento del cinema. Il famoso festival che si svolgeva a Procida a cura di Enrico Ghezzi. Ricordiamo il titolo della manifestazione che è Onde Visioni. Onde Visioni perché? Onde Visioni perché abbiamo voluto marcare il legame tra il mare e quello che saranno le visioni. La rassegna quest'anno ha il titolo di Immaginare Futuri. Cioè dove finirà l'audiovisivo nei prossimi 10-15 anni. E quindi abbiamo fatto questo gioco di parole. Proporrete anche diverse versioni di questa audiovisiva, dal cinema classico, passando anche alla realtà aumentata, fino anche al 3D. Sì, infatti la rassegna si svolge in diversi luoghi dell'isola, principalmente a Palazzo Davalos, dove ci sarà una proiezione attraverso un visore 3D di un cortometraggio a cura di un regista iraniano, si chiama Milad Tanjir, che ha fatto questo progetto nelle carceri torinesi. Lui praticamente ha studiato le reazioni dei detenuti dopo avergli fatto vivere tramite il visore l'esperienza esterna. Poi avremo a Santa Margherita invece altri due momenti, che è un altro cortometraggio di Chiara Troisi, si chiama Mono, è stato presentato da poco al Festival del Cinema di Venezia. E poi avremo un'esperienza di videogiochi. È un videogioco di corse di fantascienza a cura di uno studio italiano che si chiama 34 Big Things. E ci sarà l'ideatore Ivano Zanchetta che accompagnerà i fruitori per questa esperienza di gioco che si chiama Red Out. Avremo sia Red Out la prima versione, sia Red Out 2 che è uscito da poco, e poi uno spin-off che ci sarà presentato lì per l'occasione. Allora diamo anche qualche riferimento. Quando inizia Undevisioni 2022? Inizia il 16-17-18 settembre qui a Procida, però poi avremo un'anteprima all'11 settembre, presso la sala del Cinema Procida Hall, dove faremo un'anteprima con la proiezione del film Take Away, che è una serata omaggio a Libero De Rienzio, che era molto legato all'isola, e quindi faremo questa proiezione alla presenza del regista di Take Away, Renzo Carbonera. Il pomeriggio poi avremo al cinema, dalle 15 in poi, dei forum, appunto dove questi incontri tra filosofi, esperti di multimedialità, transmedialità, dove appunto discuteranno in un dibattito aperto con il pubblico su immaginare futuri, cioè dove arriverà il mondo dell'audiovisivo nei prossimi 10-15 anni. Dopo questi forum, dalle 17.30 in poi, avremo due proiezioni ogni giorno. Il primo giorno Gravity, introdotto da Riccardo Milanesi, e poi alle 20.30 avremo Freak's Out, introdotto da Gabriele Mainetti, il regista. Per il secondo giorno avremo Blade Runner, di Ridley Scott, e Crimes of the Future, di Cronenberg. E poi la domenica, per finire, avremo Metropolis e a finire Titan. E poi la domenica, per la domenica, per la domenica,